e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi parliamo di dc dc converter nello specifico questa volta di step down ebbene ragazzi ciao 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 oggi ragazzi a differenza della scorsa volta parliamo di un dc dc converter molto molto interessante l'ho utilizzato tantissime volte nei miei progetti di elettronica di domotica di customizzazione anche delle batterie litio stesse cose ragazzi è un convertitore a differenza di quello visto la scorsa volta questo non amplifica cioè non innalza la tensione ma la abbassa cosa che quello non faceva a due poli uno di ingresso uscita positivo negativo positivo negativo sono i sinistri sono diciamo di ingresso e destri sono riuscita la schedina ragazzi e compatta piccolina è un bel prodotto tecnologico e ovviamente ragazzi immati in cina come tutto come questo il modello che ho in prova a 9 per massimi di corrente di uscita e una potenza massima di 300 watt esistono però su aliexpress su ebay su amazon stesso tantissime varianti tantissimi modelli le dimensioni ragazzi sono quasi tutti simili quello che cambiano cambiano i mosfet alcuni montano mosfet più prestazionali altri mosfet meno prestazionali questo comunque uno dei più grossi e infatti 9 ampere per queste dimensioni per questi diciamo raffreddamenti per la letta di raffreddamento che monta è una diciamo dei più potenti in ingresso accetta da 5 a 40 volt in corrente continua in uscita possiamo avere da 1,2 a 35 volt va regolato il voltaggio tramite il trimmer molti giri che vede in alto c'è oltre il trimmer di voltaggio c'è anche il trimmer del lamperaggio perciò puoi regolare sia la tensione che la corrente in uscita questo nello specifico il trimmer della corrente e l'altro invece il trimmer della tensione perciò tu andando ad agire su questi trimmer molti giri potrei andare a fare una regolazione ragazzi precisissima perché i pro dei trimmer molti giri qual è uno dei pro dei trimmer molti giri appunto che ti permettono di fare delle regolazioni molto molto fini che comunque più avanti lo metteremo anche sotto tensione e vi mostrerò come funziona nel circuito e c'è incluso anche un led led bicolore che fa rosso o blu in base allo stato di funzionamento della scheda stessa ora in questo momento ragazzi lo cambiamo ti ricordo il corso battery maker il corso battery maker è l'unico corso nazionale sulle batterie litio andiamo a cablare la schedina con un cavo bipolare ti ricordo inoltre se vuoi sostenermi se vuoi vedere nuove recensioni nuovi test di prodotti di iscriverti al canale e anche abbonarti bastano pochi euro mensili ragazzi per permettermi di acquistare nuovi prodotti da mostrarvi da restare e poi se effettivamente il prodotto ne vale ragazzi sapere sia come funziona sapere se buono se non è buono sotto comunque in descrizione trovi tutte le informazioni andiamo a cablare oltre l'ingresso del voltaggio dell'alimentazione in uscita dell'alimentatorino che ho costruito qualche annetto fa mettiamo il volmetro il mio tester perfetto multimetro positivo e negativo così facendo ragazzi vi mostrerò come funziona la diciamo regolazione della tensione perché il multimetro lo andrò a posizionare sul selettore volt perfetto andiamo a dare alimentazione 12 volt d'ingresso ok in uscita abbiamo in questo momento 5 volt e il led e blu se vado a fare la regolazione tramite il trimmer io riuscirò a variare la tensione di uscita come abbiamo detto da per esempio 1,2 fino a circa 30 qualcosa e batteri maker sotto in descrizione trovi tutti i link l'unico corso nazionale e internazionale sulla customizzazione di pacchi batterie litio iscriviti anche tu tantissimi miei studenti oggi stanno studiando si stanno applicando in un settore davvero davvero buono sia economicamente che come soddisfazioni personali questa è la regolazione del voltaggio in ingresso 12 volts ora sto scendendo 9 8 7 9 7 5 7 2 6 e 7 6 e 4 5 9 andiamolo a posizionare a 3 volt così ti faccio vedere cosa riesco ad alimentare senza resistori senza niente ok 3,1 perfetto andiamolo a prendere eccolo qui è un diodo led blu con tensione da 3 a 3,2 volt come vedi basta andarlo ad appoggiare al connettore e lui funziona senza problemi perché ragazzi perché ho regolato il voltaggio di uscita con la tensione corretta e che non permette appunto che si fonda che si bruci questi convertitori sono molto 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 versatili si possono usare in tantissime cose poi chi è appassionato di tecnologia ragazzi sa subito come andarli a sistemare qui ora sto testando le correnti sto regolando le correnti ti ricordo anche i miei fascicoli tecnici cartaici che trovi su amazon sono pacco batterie 3s 7s 10s c'è anche quello sui pannelli fotovoltaici da qualche giorno online anche un fascicolo o anche guida come vuoi chiamarla sui monopattini elettrici questa è la cover e se vuoi se sei interessato vai su amazon e cercala andiamo a cablare una strip led perfetto queste 12 volt e ora ti farò vedere variando gli ampere come varierà la luminosità in questo momento siamo a 12 volt di alimentazione perciò funziona al massimo con 1,99 ampere ora vado a provare a aumentare ma non aumenta perché è arrivato al massimo della sua diciamo richiesta di corrente perciò scendiamo piano 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 perché appunto è un trimmer multi giri perciò ci vuole tanto tempo per scendere ok 1 e 9 eccolo qui 1 e 4 800 miliampere 500 miliampere 300 100 190 miliampere ragazzi 12 volt 190 200 miliampere come vedi la luce scende la variazione della luminosità c'è perché perché sto variando la corrente di uscita eccolo qui diciamo che siamo i minimi 190 miliampere invece di 2 ampere come abbiamo visto quando al massimo ragazzi per questo video è tutto e ringrazio per la visione seguimi iscriviti un like ciao e al prossimo video